Mister, una vittoria ineccepibile, un 3-0. Era mancato il gol nel primo tempo, ma nella ripresa anche lì non c'è stata storia. Sì, abbiamo fatto una buona gara. Siamo andati in vantaggio in maniera un po' fortuita, ma ricordo che comunque domenica scorsa abbiamo perso una partita per un episodio. Questa volta l'episodio è andato a favore nostro, ma ce lo siamo cercati perché è avvenuto dopo una pressione fatta bene, quindi induce l'avversario all'errore. Poi dopo, secondo me, abbiamo rischiato poco o nulla. I ragazzi sono stati molto bravi nel fare la gara. Abbiamo fatto una buona partita, siamo contenti e adesso riposiamoci perché comunque questi tre punti fanno morale. I cambi mi sono sembrati azzeccati, i capovolgimenti di fronte, quindi diciamo una gara buona. Sicuramente i ragazzi hanno colto quello che avevi detto alla pigiglia, dobbiamo svoltare. Sì, hanno colto alla perfezione quello che io volevo. Quando la partita si è sbloccata abbiamo avuto tanti spazi da poter sfruttare. Forse quella è la cosa che dobbiamo migliorare. Quando la squadra ha questi spazi dobbiamo essere più cinici e concreti nel concretizzare le occasioni.